La psicosintesi dà molta più attenzione all'inconscio superiore e allo sviluppo del sé transpersonale. In una delle sue lettere Freud disse, io sono interessato soltanto alla cantina dell'essere umano. La psicosintesi è interessata a tutto l'edificio. Cerchiamo di costruire un ascensore che dia l'accesso a ogni livello della nostra personalità. Dopotutto un edificio con soltanto una cantina è molto limitato. Noi vogliamo aprire la terrazza dove si può prendere il sole o guardare le stelle. Quel che ci sta a cuore è la sintesi di tutte le aree della personalità. Ciò significa che la psicosintesi è olistica, globale, inclusiva. non è contro la psicanalisi e nemmeno il comportamentismo, ma sostiene che il bisogno di significato, di valori più alti e di una vita spirituale sono altrettanto reali dei bisogni biologici o sociali.